Dio vi benedico e in questo momento ricevete la preghiera paterna e benedicente che tutte le sere San Giovanni Calabria diffondeva su tutta Verona. Nel suo cuore, dove c'era posto per i ragazzi abbandonati a cui dava istruzione e lavoro, l'affidamento a Dio era un'espressione di naturale carità. Questo gesto si ripete anche oggi nei nostri tempi drammatici, come ci spiega padre Miguel Tofful, superiore dell'Opera Don Calabria. Tutte le sere qui, dalla casa madre di San Zeno in Monte, io mi sono sentito ispirato dal Signore, quando ha cominciato questa epidemia del coronavirus, di benedire la città, tutta Italia e tutto il mondo con le reliquie di San Giovanni Calabria. Perché lo sentivo molto dentro, Don Calabria era una persona che amava la sua città, Don Calabria era una persona che amava tutta l'umanità, in particolare i malati, le persone che sono in bisogno, le persone che soffrono, ed era una pianta sensitiva. Allora, su questo sguardo, cosa farebbe Don Calabria oggi? Don Calabria oggi sarebbe molto vicino a tutta questa sofferenza e a tutta l'umanità. Per questo che ho sentito interiormente il desiderio di fare questa benedizione con le reliquie di San Giovanni Calabria, chiedendo la protezione, chiedendo che Dio veramente sia vicino a tutte queste persone. Da padre Tofful viene l'invito al nostro Vescovo Zenti a venire su questa terrazza per benedire tutta la città, un invito che rappresenta il desiderio che gli hanno espresso in questi giorni tanti veronesi. Sarebbe bello, e alcune persone mi hanno anche suggerito, e accogliamo anche con cura aperto questa richiesta, se il Vescovo viene qui sulla terrazza di San Zeno in Monte per fare la benedizione con Gesù eucaristico. Io la colgo con molta fede, con un gesto molto bello.